Grazie a tutti. Questo incontro è stata composta in francese, da una comunità francese, e perciò ce la presenta, ci aiuta a seguirla e a pregarla, la Suor Yvonne, che è la generale delle figlie di Maria Ausiliatrice. A lei la parola. Come popolo di Dio non possiamo restare silenziosi e insensibili di fronte al fardello che oggi porta la Chiesa Cattolica. Durante questo tempo di preghiera e penitenza desideriamo esprimere la nostra compassione alle persone vittime di abusi sessuali, di abusi di potere e di coscienza. Contemplando il buon samaritano preghiamo. Cristo, Signore, come tanto tempo fa, uomini e donne, feriti e umiliati, sono stati dimenticati ai margini della strada. Non tutti hanno ancora trovato un orecchio attento per ascoltare il loro dolore. Non tutti hanno trovato una spalla per condividere il peso del loro fardello. Come tanto tempo fa, tu non hai paura di ascoltare le loro grida. Tu non lasci nessuno ai margini della strada. Signore Gesù, tu che ami ciascuno di noi, porta la guarigione, porta la pace. Cristo, Signore, come tanto tempo fa, tu ti fermi accanto alla persona che soffre. Ti avvicini alle persone vittime di abusi sessuali. Ti avvicini a coloro che soffrono nel loro corpo, coloro la cui mente è sconvolta dalla paura, coloro che non sanno come pregarti. Signore Gesù, tu che ami ciascuno di noi, porta la guarigione, porta la pace. Cristo, Signore, come tanto tempo fa, chinati su coloro la cui fiducia è stata tradita. A causa di una relazione malsana o di un abuso di coscienza, come tanto tempo fa, abbi cura di coloro che si sentono indegni, sporchi, abbandonati. La cui anima è ancora paralizzata e che faticano nella loro vita relazionale e spirituale. Signore Gesù, tu che ami ciascuno di noi, porta la guarigione, porta la pace. Cristo, Signore, come tanto tempo fa, tu non hai paura di scoprire le loro ferite. Tu prepari il vino e l'olio per consolarli. Tu vegli giorno e notte al loro fianco. Tu dai loro la tua vita. Signore Gesù, tu che ami ciascuno di noi, porta la guarigione, porta la pace. Amen. Grazie, Sir Yvonne. E ora ci prepariamo ad ascoltare ancora una relazione di quest'oggi. e questa volta, come abbiamo accennato questa mattina finendo, abbiamo la gioia di avere una signora che ce la propone. E quindi adesso, delle quattro relazioni che abbiamo ancora da ascoltare, tre saranno fatte da donne. Ecco, quindi comincia il tempo delle donne, diciamo così, nel nostro incontro. Allora, la signora dottoressa Linda Ghisoni è sottosegretario per la sezione per i fedeli laici del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Ha 53 anni, è studiosa di diritto canonico, dal 1997 ha svolto varie funzioni nei tribunali ecclesiastici della Diocesi di Roma e presso la Curia Romana. Attualmente è docente e incaricata alla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana e consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede. Quindi è qualificatissima per parlarci. Il suo tema è Comunio, agire insieme. E' un nuovo tradimento che viene dall'interno della Chiesa. Queste persone sono, ai miei occhi, lupi ululanti che penetrano nell'ovile per spaventare ulteriormente e disperdere il gregge, mentre dovrebbero essere proprio loro, i pastori della Chiesa, a prendersi cura dei più piccoli e proteggerli. In questa testimonianza di una donna vittima di abusi di coscienza, di potere, sessuali da parte di sacerdoti, i lupi ululanti sono quei pastori che hanno negato a priori e che anche una volta provati i fatti criminali l'hanno resa oggetto di intimidazioni e annientata nella sua dignità, definendola come una persona che, al più, potrà passare tra un quadro e il muro. Ascoltare testimonianze come questa non è un servizio di commiserazione, è un incontro con la carne di Cristo, nella quale sono inferte ferite, forse mai rimarginabili. Ferite che, come diceva lei, Santo Padre, non sono prescrivibili. Come potremmo parlare della protezione dei minori nella Chiesa senza avere presenti le vittime e le loro famiglie, gli abusatori, i complici, i negazionisti, coloro che sono ingiustamente accusati, i negligenti, chi ha insabbiato, chi ha cercato di parlare e agire ma è stato messo a tacere. In ginocchio, questa sarebbe la postura adeguata per trattare gli argomenti di questi giorni. In ginocchio, davanti al Padre misericordioso che vede lacerato il corpo di Cristo, la sua Chiesa, e ci invia a farci carico, come suo popolo, delle ferite e a curarle con il balsamo del suo amore. Non ho nulla da insegnare a lei, Santità, a loro, eminenze, eccellenze reverendissime, alle reverende madri e ai reverendi padri qui convocati. «Credo piuttosto che insieme, nell'ascolto reciproco e fattivo, ci impegniamo a lavorare affinché in futuro non desti più tanto clamore un evento come questo incontro e la Chiesa, popolo di Dio, si prenda cura in modo competente, responsabile e amorevole delle persone coinvolte, di quanto accaduto, affinché la prevenzione non si esaurisca in un bel programma, ma diventi un atteggiamento pastorale ordinario». Primo punto. Situare e fondare opportunamente l'accountability. A fronte dell'abnormità, insita in ogni genere di abuso perpetrato nei confronti di minori, si impone, anzitutto, lo abbiamo ascoltato spesso in questi giorni, un dovere di conoscenza di quanto è accaduto. Congiuntamente, a una presa di coscienza del suo significato, al dovere di verità, di giustizia, di riparazione e prevenzione, affinché si consegua la non reiterazione di questi abomini. La conoscenza degli abusi e la loro entità è evidentemente il punto di partenza fondamentale. Del resto, non è possibile prevedere alcun piano di prevenzione se non si conosce ciò da cui occorre rifugire. Tuttavia, la conoscenza dei fatti e la definizione dell'entità del fenomeno, pur necessaria e fondamentale, da sé non basta. Si richiede, per conseguire le esigenze sopra elencate, l'assunzione della dovuta responsabilità da parte di chi ne ha investito e il conseguente dovere di rendere ragione rispetto ad essa, ossia il dovere di accountability. L'accountability impone un'operazione di valutazione e rendicontazione rispetto a scelte compiute e a obiettivi individuati e più o meno realizzati. Essa risponde a esigenze di carattere sociali, ponendo la persona che è investita di responsabilità davanti a una resa dei conti, non soltanto con sé stessa, ma anche nei confronti della società in cui vive e a beneficio della quale è chiamata a svolgere un determinato incarico. Tuttavia, l'accountability nella Chiesa, contrariamente a quanto possa sembrare, non risponde in primo luogo a esigenze di carattere sociale e organizzativo. organizzativo e neppure, sempre in primo luogo, alle necessità di trasparenza alla quale siamo tutti chiamati a prestare particolare attenzione per ragioni di verità. Tali esigenze, da non trascurare, da non minimizzare, sono giuste. del resto la Chiesa non può estranearsi da quanto la sua dimensione istituzionale esige. Tuttavia, non sono queste esigenze sociali a costituire il fondamento dell'accountability, che è piuttosto da ricercarsi nella natura propria della Chiesa come mistero di comunione. sappiamo che la natura comunionale della Chiesa emerge in particolare grazie al Concilio Vaticano II, sebbene in verità né la Costituzione dogmatica Lumen Gentium né gli altri documenti di carattere ecclesiologico sembrino porre espressamente l'accento su un'ecclesiologia di comunione. Occorrerà attendere il Sinodo straordinario dei Vescovi dell'anno 1985 affinché si elabori la categoria di comunione quale cifra interpretativa della Chiesa alla luce della rivelazione. Ciò emerge dal riferimento primo, diretto e fondante alla dimensione sacramentale della Chiesa, ovvero a quel mistero trinitario nel quale la Chiesa riconosce il proprio volto, seppure in forma sacramentale, pertanto analogica, veluti sacramentum, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Unicamente poggiando su questo fondamento acquisisce un senso compiuto ogni azione nella Chiesa. Anche un'azione connotata più spiccatamente da esigenze di carattere sociale, quale è, o può sembrare, l'accountability, occorre sia ricondotta alla natura propria della Chiesa stessa, ovvero alla sua dimensione comunionale. che cosa può significare questo nel nostro ambito? Non di rado io avverto insofferenza nella Chiesa per l'attenzione che si dedica alla questione degli abusi sessuali sui minori. Un sacerdote qualche giorno fa ha esclamato ancora si continua a parlare di abusi, è esagerata l'attenzione che la Chiesa riserva a questo tema. Ma anche una signora praticante in parrocchia mi ha detto candidamente meglio non parlare di questi argomenti perché altrimenti crescerà sfiducia verso la Chiesa. Parlarne offusca tutto il bene che si fa nelle parrocchie se la vedano il Papa, i Vescovi e i preti tra loro. Il parlarne o non piuttosto gli abusi stessi di coscienza di potere sessuali offuscano il bene che viviamo nelle parrocchie? A queste persone e prima ancora a me stessa dico che prendere coscienza del fenomeno e rendere conto della propria responsabilità non è una fissazione non è un'azione inquisitoria accessoria per soddisfare amere esigenze sociali bensì un'esigenza scaturente dalla natura stessa della Chiesa come mistero di comunione fondato nella Trinità come popolo di Dio in cammino che non evita ma affronta con sempre rinnovata consapevolezza comunionale anche le sfide legate agli abusi occorsi al suo interno a danno dei più piccoli minando e spaccando questa comunione punto 2 alcune questioni ecclesiologiche conseguenti solo a partire dalla visione di Chiesa come sacramento che manifesta il mistero della comunione trinitaria è possibile comprendere correttamente la varietà dei carismi dei doni e dei ministeri nella Chiesa la varietà dei ruoli e delle funzioni nel popolo di Dio una prima questione cruciale che discende da quanto detto è la seguente i fedeli nella Chiesa non si attribuiscono ruoli e incarichi su una base distributiva sociale per esigenze di funzionamento istituzionale sappiamo bene che il sacerdozio comune dei fedeli fondato nel battesimo rende partecipi i cristiani proprio in virtù del battesimo del triplice munos di Cristo sacerdote re profeta l'onesto l'onesto riferimento pertanto alla Chiesa come comunione come popolo di Dio in cammino esige e urge che tutte le componenti di questo popolo ciascuna nel modo che le è proprio vivano conseguentemente i diritti doveri di cui sono stati resi partecipi nel battesimo non si tratta di accaparrarsi posti o funzioni o di spartirsi un potere la chiamata ad essere il popolo di Dio ci consegna una missione che ciascuno di noi è inviato a vivere secondo i doni ricevuti non da solo ma per l'appunto come popolo una seconda questione importante nel contesto del nostro discorso inerisce la corretta comprensione del ministero ordinato specialmente nel rapporto tra vescovi e presbiteri se da un lato ai presbiteri è richiesto che siano uniti al loro vescovo con sincera carità e obbedienza riconoscendo in lui l'autorità di Cristo come pastore supremo non di meno i vescovi come è scritto nel decreto un presbitero orum ordinis al numero 7 debbono prendersi cito a cuore in tutto ciò che possono il loro dei presbiteri benessere materiale e soprattutto spirituale è ai vescovi infatti che incombe in primo luogo la grave responsabilità della santità dei loro sacerdoti e si devono e si devono pertanto prendersi cura con la massima serietà della formazione permanente del proprio presbiterio fine della citazione un corretto rapporto tra vescovo e presbiteri conduce a una presa in carico reale dal punto di vista materiale e spirituale dei sacerdoti da parte del vescovo sul quale incombe in primo luogo la responsabilità della loro santità occorre che il ministero sacerdotale a ogni livello avvalendosi di una solida formazione sia vissuto per quello che è come dedizione e servizio a Cristo e alla Chiesa lavando i piedi secondo quanto Gesù ha fatto agli apostoli pur deludendo molti dei suoi contemporanei perché non esercitava il potere che si attendevano il ministero sacerdotale vissuto in quanto tale preserva da ogni tentazione di accarezzare il potere di autoreferenzialità di autocompiacimento di principato e di sfruttamento degli altri per coltivare il proprio piacere a qualsiasi livello anche sessuale quanti sacerdoti quanti vescovi ci edificano con il loro ministero con la loro vita di preghiera di dedizione e servizio stabilendo relazioni sane libere all'interno del popolo di Dio a questi sacerdoti diciamo il nostro grazie incoraggiandoli e sostenendoli nella vita di santità e di servizio nella vigna del Signore a cui sono chiamati ulteriore nota da rimarcare che discende dalla visione di Chiesa comunione popolo di Dio in cammino è l'esigenza di interazione tra i vari carismi e ministeri la Chiesa si rende visibile e operante nella sua natura comunionale se ciascun battezzato vive e compie ciò che gli è proprio se la diversità dei carismi e ministeri si esprime nel necessario coinvolgimento di ciascuno pur nel rispetto delle differenze il citato documento conciliare del 1965 dedicato ai presbiteri stabiliva non solo che cito i presbiteri devono riconoscere e promuovere sinceramente la dignità dei laici nonché il loro ruolo specifico nell'ambito della missione della Chiesa ma li esortava altresì ad essere pronti ad ascoltare il parere dei laici tenendo conto con interesse fraterno delle loro aspirazioni giovandosi della loro esperienza e competenza nei diversi campi dell'attività umana in modo da potere assieme riconoscere i segni dei tempi e chi osava non esitino ad affidare ai laici degli incarichi al servizio della Chiesa lasciando loro libertà d'azione e un conveniente margine di autonomia anzi invitandoli opportunamente a intraprendere con piena libertà anche delle iniziative per proprio conto si evidenzia a partire dalla comunio che costituisce la Chiesa un necessario contributo diversificato di tutti non per reclamare il protagonismo di qualcuno ma per rendere visibile la ricchezza multiforme della Chiesa nel rispetto del proprio di ognuno contro la pretesa che il carisma della sintesi sia la sintesi dei carismi infine occorre che il coinvolgimento di tutto il popolo di Dio sia necessariamente dinamico i laici i consacrati non sono chiamati ad essere meri esecutori di quanto disposto dai chierici ma tutti servitori dell'unica vigna in cui ciascuno contribuisce con il proprio apporto essendo egli stesso coinvolto nel discernimento che lo spirito suggerisce alla Chiesa indubbiamente il ministero ordinato nel suo grado più alto cioè quello episcopale porta su di sé la responsabilità di prendere la decisione ultima in forza della potestà che gli viene riconosciuta tuttavia non può agire da solo o limitando a pochi la sua azione di discernimento sarà vitale per i vescovi avvalersi del contributo del consiglio e discernimento di cui tutti nella Chiesa inclusi i laici sono capaci non soltanto per se stessi e per le scelte personali ma come Chiesa e per il bene della Chiesa nel lich et nunc in cui sono chiamati a vivere è sempre il fondamento comunionale della Chiesa a indicarci la via e il metodo in questo caso un dinamismo di coinvolgimento di tutto il popolo di Dio che comporta di vivere camminando insieme la sinodalità come un processo condiviso in cui ciascuno ha una parte diversa responsabilità diversificate ma tutti costituiscono l'unica Chiesa infatti come leggiamo nella recente Costituzione Apostolica Episcopale Scomunio la totalità dei fedeli avendo l'unzione che viene dal Santo non può sbagliarsi nel credere e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo quando dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di morale un vescovo che vive in mezzo ai suoi fedeli ha le orecchie aperte per ascoltare ciò che lo spirito dice alle chiese e la voce delle pecore anche attraverso quegli organismi diocesani che hanno il compito di consigliare il vescovo promuovendo un dialogo leale e costruttivo fin qui Episcopale Scomunio queste riflessioni ci invitano a rifuggire da due posizioni erronee un vescovo non può pensare che le questioni riguardanti la chiesa possono da lui essere risolte agendo da solo oppure esclusivamente tra pari secondo il ritornello solo un vescovo può sapere cosa è bene per i vescovi oppure in maniera analoga solo un prete sa cosa sia bene per i preti solo un laico per i laici sono una donna per le donne e così via parimenti possiamo affermare che è erroneo a mio modo di vedere sostenere sostenere che il coinvolgimento dei laici in quanto tali in questioni che toccano i ministri ordinati sia garanzia di maggiore correttezza in quanto sarebbero terzi rispetto agli eventi da qualche parte si invoca costituiamo una commissione di laici perché è più credibile di una commissione di preti che tendono ad essere meno oggettivi a coprire a difendere aprioristicamente da donna laica moglie madre di famiglia debbo onestamente constatare che indistintamente tra i sacerdoti tra i religiosi come tra i laici vi possono essere e vi sono persone non libere disposte a coprire aprioristicamente asservite a qualcuno invece di essere al servizio amorevole intelligente e libero della chiesa e fedeli alla loro propria vocazione tornare alla natura comunionale della chiesa dove si realizzano le diversità di carismi e ministeri non significa un appiattimento ma comporta ricchezza e forza aiuta a trovare le ragioni per evitare questi slogan estremi e improduttivi e vengo all'ultimo punto spunti per alcune attuazioni pratiche avendo presenti i fondamenti e le questioni brevemente richiamate questo incontro ci offre l'opportunità di conoscere quanto si sta attuando nella chiesa quanto è da implementare consapevoli che se è vero che questo meeting convocato dal Papa non costituisce il punto d'arrivo di un percorso concluso validato e perfetto è altrettanto vero che esso non è neppure il punto di partenza quasi che si possano ignorare gli interventi magisteriali normativi pastorali sinora promossi e le numerose azioni che ne sono scaturite primo spunto pertanto è la conoscenza e lo studio di quelle che sono le pratiche già rodate ed efficaci promosse in seno ad altri contesti ecclesiali ad altri episcopati mi riferisco a pratiche che contemplino il coinvolgimento di persone competenti che rappresentino tutto il popolo di Dio in quanto ogni battezzato animato dallo spirito è idoneo a esprimere un sensus fidei dal quale la chiesa non può prescindere in questo contesto è bene riconoscere il lavoro di coloro i quali negli anni recenti hanno dedicato intelligenza cuore e mani a questa causa ascoltando le vittime elaborando protocolli linee guida revisioni e quant'altro avvalendosi di competenze specifiche attinte da tutto il popolo di Dio tenuto conto della diversità dovuta ai vari contesti culturali e sociali in cui è presente la chiesa non vi sia una business class in alcune chiese particolari e una economy class in altre ma l'unica chiesa di Cristo si esprima dovunque garantendo a tutti dappertutto strumenti procedure criteri che al di là delle necessarie peculiarità locali tutelino i minori perseguendo la verità la giustizia promuovendo la riparazione e la prevenzione in tema di abusi secondo punto nelle linee guida nazionali si è inserito uno specifico capitolo che determini motivi e procedure di accountability affinché i vescovi e i superiori religiosi stabiliscano una procedura di verifica ordinaria del compimento di quanto previsto e una motivazione delle azioni intraprese o meno così da non trovarsi a dovere giustificare successivamente le ragioni di un determinato comportamento assoggettandolo alle esigenze del momento magari legato a un'azione difensiva prevedere una procedura ordinaria di verifica non andrebbe frainteso come sfiducia verso il superiore o il vescovo ma considerata piuttosto come un ausilio che gli consente di mettere a fuoco anzitutto a se stesso e nel momento migliore ossia quando tutti gli elementi sono chiari e compresenti le ragioni di una determinata azione compiuta o omessa dire che anche il vescovo deve sempre rendere ragione del suo operato a qualcuno non significa sottoporlo a un controllo o rivestirlo di sfiducia a priori ma innestarlo nella dinamica della comunione ecclesiale dove tutte le membra agiscono in modo coordinato secondo i propri carismi e ministeri se un sacerdote rende ragione alla comunità al presbiterio al suo vescovo di quello che è il proprio operato un vescovo a chi rende ragione a quale accountability è soggetto individuare una realtà di responsabilizzazione non solo non lo indebolisce nella sua autorevolezza ma lo valorizza come pastore di un greggio nella sua funzione propria che non è separata dal popolo per il quale ha chiamato a dare la vita potrà anche accadere come per ciascuno di noi che dal rendere ragione scaturisca la consapevolezza di un errore che diventi evidente che una strada intrapresa è sbagliata magari perché sul momento si pensava sbagliando di agire per il bene ciò non costituirà un giudizio da cui difendersi per recuperare credito una macchia sulla propria onorabilità un insidio alla propria potestà ordinaria immediata al contrario sarà la testimonianza di un cammino fatto insieme che solo insieme può trovare il discernimento di una verità di una giustizia di una carità la logica della comunione non sopporta una accusa e una difesa ma un concorrere al bene di tutti anche l'accountability pertanto è una forma oggi ancora più necessaria di questa logica di comunione l'avvio in sede locale su base diocesana o regionale di consigli che operino in maniera corresponsabile con i vescovi e superiori religiosi supportandoli in questo compito con competenza e fungendo dal luogo di verifica e discernimento rispetto alle iniziative da intraprendere pur senza sostituirsi a loro né ingerire in decisioni che ricadono sotto la diretta responsabilità giurisdizionale del vescovo o del superiore può costituire un esempio e un modello di una sana collaborazione di laici religiosi chierici nella vita della Chiesa è auspicabile inoltre che nel territorio di ciascuna conferenza episcopale siano create commissioni consultive indipendenti per consigliare assistere i vescovi e i superiori religiosi e promuovere un livello uniforme di responsabilità nelle diverse diocesi tali commissioni siano composte da laici senza che si escludano religiosi e chierici non si tratterebbe nel caso di persone che giudicano i vescovi ma di fedeli che prestano il loro consiglio e assistenza ai pastori anche valutandone con criteri evangelici l'operato e che altresì informano i fedeli tutti del territorio riguardo alle procedure appropriate tali commissioni consultive nazionali a loro volta mediante relazioni e riunioni periodiche tra loro potranno contribuire ad assicurare una maggiore uniformità di pratiche e un confronto sempre più efficace in modo che le chiese particolari imparino l'una dall'altra in spirito di reciproca fiducia e comunione con lo scopo di assumersi e condividere effettivamente la preoccupazione per i più piccoli e i vulnerabili sarà poi da considerare l'opportunità di un ufficio centrale non di accountability che invece da valutarsi in sede locale che promuova la formazione di questi organismi in un'identità propriamente ecclesiale solleciti e verifichi con cadenza regolare il corretto funzionamento di quanto avviato a livello locale con un'attenzione alla correttezza anche dal punto di vista ecclesiologico in modo che i carismi e i ministeri in campo siano tutti adeguatamente rappresentati e ciascuno possa contribuire con il proprio specifico apporto preservando altresì la libertà di ciascuno occorrerà rivedere l'attuale normativa sul segreto pontificio in modo che esso tuteli i valori che intende proteggere ossia la dignità delle persone coinvolte la buona fama di ciascuno il bene della chiesa ma nello stesso tempo consenta lo sviluppo di un clima di maggiore trasparenza e fiducia evitando l'idea che il segreto venga utilizzato per nascondere problemi anziché per proteggere i beni in gioco saranno inoltre da affinare criteri per una corretta comunicazione in un tempo come il nostro in cui le esigenze della trasparenza devono contemperarsi con quelle della riservatezza infatti una ingiustificata riservatezza così come una incontrollata divulgazione rischiano di generare cattiva comunicazione e di non rendere un servizio alla verità accountability è anche sapere comunicare se infatti non si comunica come si può rendere conto ad altri e dunque quale comunione può esserci tra noi e concludo le considerazioni appena accennate riguardo possibili azioni da compiere come chiesa come popolo di dio in comunione e con corresponsabilità non costituiscono se non una sollecitazione alla riflessione e al confronto trasversale soprattutto nei lavori di gruppo al fine di suscitare approfondimenti e applicazioni concrete infatti come ci esorta la lettera al popolo di dio oggi siamo interpellati come popolo di dio a farci carico del dolore dei nostri fratelli feriti nella carne e nello spirito se in passato l'omissione ha potuto diventare una forma di risposta oggi vogliamo che la solidarietà intesa nel suo significato più profondo ed esigente diventi il nostro modo di fare la storia presente e futura grazie 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 grazie